Le operazioni per la chiusura dell'aeroporto di Linate, che sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione fino al 27 ottobre, sono iniziate la notte scorsa con il trasferimento di un primo convoglio di mezzi fino a Malpensa. Il primo trasferimento, secondo quanto previsto dal dispositivo di sicurezza messo a punto in una riunione alcuni giorni fa del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dai prefetti di Milano e Varese, in collaborazione ovviamente con SEA, ha riguardato il trasporto di sei co-bus, autobus di dimensioni eccezionali in larghezza, impiegati per il trasferimento dei passeggeri da e verso gli aeromobili. Il convoglio dei mezzi lungo quasi un chilometro, ad una velocità minima non inferiore a 40 km orari, scortato dalla polizia stradale, ha impiegato circa due ore per raggiungere lo scalo di Malpensa. Il secondo convoglio partirà stasera dopo la chiusura di Linate, dove oggi l'operatività si sta svolgendo secondo programma. Anche Regione Lombardia collabora fattivamente per rendere il più fluido possibile il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, lo ha affermato l'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale Riccardo Decorato, comunicando che attraverso la sottoscrizione di un accordo con i comuni di Milano e l'Unione dei Comuni di Lonate, Pozzolo e Fermo, Regione Lombardia ha garantito uno stanziamento di 80 mila euro per l'attivazione di servizi straordinari di polizia locale. Lo spostamento temporaneo di voli e di personale da Linate a Malpensa, aggiunto Decorato, comporterà un notevole incremento delle attività nella zona del Lab Varesino. Per aumentare la sicurezza stradale e urbana si è così voluto venire incontro alle esigenze dalla polizia locale, sostenendo il proprio lavoro.